Questa presenza di Piazza, che suonava anche lì suonato le pitture, che suonano con il slauto. Hanno trovato anche una pietra, si trova lì, nel decomano, che era una palda di Armenia, aveva sfumato questo piano. I posti con lo spinale si ritirano lì, non come al solito, ci sono i fatti, non solo lì. C'erano anche le pietre, non siamo noi originale, le pronti a noi invece erano pronti, mancava il fatto scelico, avevano raccolto un po' di pietre, avevano fatto un po' di pietre.